Eccoci, benvenuti alla puntata settimanale del martedì del salotto di Wilson Hills. Stasera avete già un pochino spoilerato quella che sarà l'ospite stasera con noi. Adesso fra poco andremo a inserirla nella nostra diretta. Stasera si parlerà di due ruote, sarà con noi Aurora Angelucci. Andiamo subito a contattarla per aggiungerla con noi alla diretta. Nel Mentre si connette Aurora vi anticipo che parleremo di una start-up di grande successo di cui lei è la CEO, l'ideatrice, e ha un obiettivo veramente, veramente importante, quello di supportare le donne nel motosport e soprattutto nel campo delle due ruote. Manca pochissimo, sta per connettersi con noi e avrà modo di raccontarci proprio da cosa è partita la sua idea, da cosa parte è nata la sua passione e tutto quello che gravita attorno ad Angelus. Vediamo se riesce a connettersi. Intanto saluto tutti coloro che si stanno collegando. Ciao a tutti che ci state seguendo. Vediamo. Non so come mai non riesce a connettersi Aurora. Vediamo. Eccoci qua. Aurora. Aurora. Ciao Aurora. Eccoci. Benvenuta. C'è stato un attimo di collegamento, ma ce l'abbiamo fatta. Benvenuta, benvenuta al nostro salotto virtuale. Prova a parlare, vediamo se riusciamo a sentirti. Mi sentite? Ti sento benissimo, perfettamente. Benvenuta al nostro salotto. È un piacere per noi averti qui. Intanto che ti stavi connettendo, stavo un po' anticipando che tu sei l'ideatrice di una startup molto e molto importante che è Angelus. Ma prima di entrare proprio in questo tuo progetto veramente ammirevole, volevo chiederti un po' come ti sei avvicinata alle due ruote e al motorsport. Ok, e allora, mio padre è sempre stato un appassionato, quindi sin da quando ero piccola vedevo lui che guardava le gare ovunque andavamo in tutte le parti del mondo. In realtà fino per molti anni io non ho mai seguito con lui, cioè vedevo lui che le guardava ma non mi sono mai appassionata. Poi un anno i miei genitori hanno deciso di andare ad una gara a Misano e quell'anno mi hanno chiesto se volessi andare con loro. Sono andata e da lì è scoppiata la passione. Tra l'altro lui ha sempre visto principalmente la MotoGP, invece da lì ho iniziato a seguire tutte le categorie e mi svegliavo di notte per vedere le gare. Diciamo che è stato amore a prima vista, come dicevi, e giustamente è stata forse una passione che ti è stata trasmessa dal papà che è rimasta un po' sopita fino a quando non sei andata in questo circuito fantastico. Sì, finché non ho visto e vissuto realmente l'aria del circuito non mi sono mai appassionata realmente, invece da lì è scoppiata, è scoppiata questa passione. E diciamo io ti ho seguito e ti seguo sui social e su questo progetto di cui adesso andremo a parlare. Diciamo che tu ti sei fatta una domanda molto importante quando sei capitata nel paddock. Sì, mi sono chiesta ma come mai non ci sono così tante donne, o meglio ci sono, sono aumentate negli ultimi anni ma sono principalmente i ruoli non tecnici. Invece per quanto riguarda i piloti sono state proprio pochissime le donne a correre in tutta la storia della MotoGP, infatti sono state solo 12 le donne a correre e è stata corsa una sola gara nella MotoGP, quindi numeri abbastanza scarsi per 73 anni. Ecco sì, diciamo che insomma è una presenza che sì, come hai detto tu giustamente adesso si sta un pochettino più ampliando soprattutto nel lato della direzione sportiva, dello sponsorizzazione. Social, brava infatti, però dal punto di vista operativo diciamo, dal punto di vista operativo e di driver in effetti non è che ci sia tantissimo. Quindi ti è venuta proprio questa idea, creo una startup che ha come obiettivo? L'obiettivo di Angelus è quello di avere un pilota che corrà nella MotoGP, quindi un'intera stagione, e di avere un team tutta al femminile, di creare diciamo un vero e proprio percorso in cui le donne iniziano ad avere la stessa, a esserci lo stesso numero di donne che ci sono negli uomini, cioè che adesso ricoprono gli uomini. Giusto, infatti diciamo che tu poi hai iniziato, è una cosa che è iniziata già l'anno scorso, perché so che comunque Angelus parte dal punto di vista progettuale l'anno scorso, poi? Angelus come progetto c'è da diversi anni come idea, poi ho iniziato a lavorarci realmente, cioè a cercare un modo per entrare in questo mondo da settembre, però è già diversi anni che diciamo l'idea c'è. Naviga nella, diciamo, era un po' una nebulosa, però poi l'anno scorso sei riuscita un pochettino di più a concretizzarlo. Poi è partito tutto con gennaio e diciamo che le cose sono andate veramente, veramente al galoppo, diciamo. Sì, sì, veramente velocemente, se penso che è partito tutto da sei mesi poi realmente come operativo, perché poi da quando sono iniziate le gare. No, diciamo è andato tutto velocemente e sta andando tutto, anche come step operativi, stiamo andando abbastanza veloce e abbastanza bene, quindi sono molto contenta. Anche perché giustamente tu hai avuto un'idea molto molto interessante che fino ad ora non era mai stata, mai stata attuato, perlomeno era rimasta magari come un sogno nel cassetto. Invece tu hai avuto un po' il coraggio di buttarti in questo progetto che ha, diciamo, già due ambiti tecnici che lo supportano. Infatti abbiamo MTA da un lato e anche RNF, quindi si parla proprio di Moto3 e MotoGP, quindi veramente siamo già l'apoteosi. Esatto, sì, già collaboriamo con due team e diciamo entrambi per motivi simili ma diversi. Quindi RNF più per un supporto proprio sportivo. Ad esempio nel test che faremo ad agosto ci saranno anche i piloti della MotoGP che porteranno le ragazze che seguiamo, daranno una mano, diciamo, dal punto di vista sportivo. E invece MTA crea proprio lo spazio per le ragazze che possono salire in questo momento. Quindi per esempio per la wildcard che faremo a settembre MTA ha inviato la richiesta, quindi crea appunto lo spazio che serve per… Eh sì. Infatti tu hai già un po' anticipato quello appunto in cui ti stavo un po' introducendo. È talmente andata al galocco questo progetto che è arrivata proprio una notizia di poche settimane fa che insomma avete, siete riusciti ad avere la wildcard del 18 settembre ad Aragon. Niente po' poi di meno che insomma una campionessa di grande valore come Maria Herrera. Infatti volevo chiederti insomma com'è, come hai già un pochettino anticipato tu, com'è vedere il proprio progetto nascere, crescere in così poco tempo e insomma vedere su una sella di una moto messa a disposizione praticamente dal progetto Angelus un personaggio così? Ciao, per certi versi è strano perché comunque… però in questo mondo non hai mai il tempo di capire realmente come stanno accadendo le cose perché è un mondo che va talmente veloce che succedono cose e neanche te ne rendi conto. Però sì, è molto emozionante soprattutto ripeto a pochi mesi dalla presentazione ma siamo molto contenti, stiamo lavorando tanto per raggiungere il traguardo. Perché infatti quello che poi raggiungerete a settembre… Allora adesso spieghiamo un po' per chi si è collegato e si sta collegando. Praticamente adesso il progetto è sostenere dal punto di vista manageriale e quindi tutto quello che gravita un po' attorno alle driver per supportarle in diversi campionati che sono tutti appunto campionati di motociclismo a due ruote. Ma l'aggiunta che poi è quella che ci sarà a settembre che poi ho letto anche dalle varie interviste di Maria direttamente è quello che la spinta con più cuore è proprio affidarsi ad un entourage completamente femminile. Sì esatto, esatto. Per la prima volta nella storia ci sarà un pilota donna con tutto il team completamente al femminile. E tra l'altro è proprio l'obiettivo che ci siamo posti poi. Quindi è il primo step per l'obiettivo poi finale che è quello appunto di avere un team tutto al femminile in modo GP. Sì, noi seguiamo già delle ragazze anche proprio nel percorso diciamo dalle categorie più basse perché l'obiettivo è proprio quello di creare un percorso per farla arrivare anche competitive perché non è solo farla arrivare è anche farla arrivare che possano competere. Certo, infatti. Infatti è una filiera che in realtà appunto parte da quelli che sono i campionati praticamente nella sfera regionale per poi arrivare a quelli che sono i campionati quelli di ovviamente più grande lustro. So che però avete anche già dei supporti nei confronti di ragazze che partecipano alla Women's European Cup, giusto? Che sono sia Sara Cabrini e Arianna Barale insomma due nomi abbastanza talentosi e quindi vi siete buttati anche in un campionato solo donne. Diciamo che ci siamo avvicinate più che altro al pilota che era il campionato perché l'idea in sé del campionato non è molto affine con la nostra idea perché l'obiettivo finale è comunque quello dell'inclusione quindi di far competere le donne insieme agli uomini e il campionato solo femminile è un po' distaccato da quello che è la nostra idea e tra l'altro penso che comunque sia una parte del percorso per poi riuscire ad arrivare all'obiettivo. Certo, anche perché infatti io volevo appunto portarti a questo discorso perché so che in realtà tu sei appunto un po' sull'idea del non ghettizziamole, diciamo. Anche perché credo anche da un punto di vista proprio formativo e sportivo il fatto di correre insieme a degli uomini sia anche proprio appunto formativo. Sì, è un po' più spronante, diciamo. A stimoli dal punto di vista sportivo è meglio. Sì, anche perché in realtà sai, insomma, vabbè, è vero che diciamo la preparazione è anche una preparazione diversa infatti volevo appunto chiederti essendo che Angelus si occupa veramente a 360 gradi qual è la differenza nella preparazione di quella che appunto è un fisico e una mente femminile ad una gara motociclistica? Che differenze ci sono e come poter riempire il gap? Allora, diciamo dal punto di vista proprio fisico le differenze rispetto anche a molti anni fa sono molto minori. le donne e gli uomini ormai hanno un fisico abbastanza simile in quanto rispetto a tanti anni fa fanno gli stessi lavori mangiano le stesse cose quindi più o meno rispetto a molti anni fa il gap si vede molto meno dal punto di vista fisico. Diciamo che la preparazione è più che altro quella mentale proprio anche perché essendo un ambiente maschile la preparazione fa tanto e comunque la parte mentale è una parte molto fondamentale per uno sport del genere anche proprio per affrontare le cadute è una parte molto importante. Anche perché in realtà adesso proprio mi viene proprio nella nostra chiacchierata informale che stiamo facendo in realtà è vero ovviamente il motociclismo, due ruote è sempre comunque pericoloso io la parlo da appassionata più di quattro ruote perché ho sempre vissuto nell'ambito del motosport a quattro ruote ho sempre visto molto più pericolosa la moto quindi diciamo che ammetto l'ho sempre vista un po' così gli incidenti in effetti sono magari anche un po' di più e anche un po' di più pericolosi mi viene in mente una Anna Carasco che insomma ha fatto un incidente di quelli veramente potenti e insomma la ripresa è una ripresa che poi in realtà da un lato fisico si può riprendere tutto ma il lato mentale poi è quello che sostiene. Sì, sì esatto è più la parte mentale che non quella fisica perché poi il fisico si riprende magari ci vuole un po' di tempo ma si riprende la parte mentale è bisogna lavorarci tra l'altro noi abbiamo anche una ragazza la stessa Arianna Barali che qualche anno fa ha avuto un incidente abbastanza importante però lei è una che è molto concentrata sull'obiettivo e che gli piace quello che fa quindi lo vedi anche in pista che ha ripreso bene i ritmi Sì, è una tosta Arianna infatti mi ricordo che poi oltretutto aveva fatto l'incidente all'inizio della stagione quindi c'era stato un grandissimo sostegno un grandissimo supporto e attesa nelle prime gare e poi purtroppo gli era capitato questo incidente che l'aveva bloccata per un pochetto di tempo quindi è stata un po' però esempio proprio per il discorso della parte mentale lei è una che appena si è ripresa un pochetto voleva risalire sulla moto e quindi quello fa tanto anche proprio la voglia di fare Sì, è importantissimo questo Tornando al progetto Angelus volevo chiederti allora ti ho detto hai avuto un grandissimo coraggio grande determinazione ce ne vorrebbero di ragazze che si buttassero un po' più come te e voglio chiederti chi è che ti ha sostenuto, supportato sia nell'idea del progetto sia poi nella realizzazione Allora, diciamo ovviamente in primis la mia famiglia e poi quando sono entrata un po' in questo mondo le primissime persone con cui ho avuto un contatto sono in realtà il mio avvocato che è la persona che poi mi ha fatto entrare nel mondo e che mi ha supportato e che è proprio approvando il progetto essendo un appassionato di questo di questa cosa mi ha spronato e mi ha poi appunto fatto entrare nel mondo e poi gli stessi team adesso poi diciamo le persone che mi supportano sono un po' di più perché certo poi quando inizia le persone vedono anche che fai oltre a è vero no, sì diciamo in primis la mia la mia famiglia comunque eh sì che diciamo ti ha dato proprio l'input a dire ma perché no è una cosa interessante proviamola no? perché poi alla fine è sempre un po' questo tornando un po' all'attività che svolgete sicuramente immagino ho immaginato anche il fatto che comunque vogliate seguire quelle che possono essere le bambine le ragazze che ancora magari come te praticamente avevano questa passione nelle vene ma non è ancora esplosa quindi volevo chiederti un po' come quello che succede nelle quattro ruote per esempio la federazione automobilistica crea un progetto che è il FIA Girls on Track praticamente permette alle ragazze piccole di partecipare a quelli che sono i gran premi e gli eventi per toccare un po' con mano tu come la pensi e cosa faresti? a noi diciamo ci stiamo avvicinando alle categorie più basse per esempio adesso una categoria che è uscita negli ultimi anni e che lavora proprio sulle piccole sulle bambine piccole è l'Ovale e è appunto una una categoria a cui ci stiamo avvicinando molto diciamo che più che fare proprio delle categorie noi lavoriamo sempre con categorie già esistenti per poi farle crescere aiutarle a trovare il posto nelle varie categorie e vedere anche qual è il percorso migliore a seconda della persona per arrivare al mondiale appunto sì quello sì ma secondo te avvicinare le bambine come potrebbe essere come potrebbe essere possibile? diciamo su questo stiamo lavorando cioè la mia idea è magari fare non so delle proprio far capire che si può arrivare all'obiettivo perché non essendoci mai stato proprio anche delle pilotesse oppure dei meccanici di alto livello magari uno arriva fino a un certo punto poi molla perché pensa di non poterci arrivare realmente quindi proprio quello anche di fare delle borse di studio per far capire che c'è la possibilità di salire non so come spiegarmi poi io credo che con dando anche l'esempio che ci si possa arrivare le persone poi si avvicinano da sì insomma certo certo anche perché in realtà se ci pensiamo a volte sai vedere la gara in televisione è qualcosa che è bellissimo da un lato però dall'altro lato magari rende la cosa un pochettino distante tra virgolette no? quindi tutti pensano che sì è un mondo bellissimo fantastico però arrivarci chi ci potrà mai arrivare poi mentre ripeto il fatto che non ci sono mai state proprio realmente donne che siano arrivate alla categoria massima rende ancora più proprio il pensiero che non ci si possa arrivare quando in realtà secondo me deriva da altri fattori sì infatti infatti volevo appunto un pochettino parlare secondo te dal punto di vista dato che Angelus si occupa anche ovviamente della parte manageriale cosa secondo te blocca così tanto la presenza delle donne a livello di moto mondiale moto 3 quindi campionati ovviamente mix misti diciamo già in parte appunto quello che ho detto che non essendoci mai state anche dal punto di vista dell'investimento perché comunque è uno sport che richiede tanto investimento a livello sia economico ma anche proprio di impegno perché anche il solo campionato nazionale comunque richiede uno spostamento che è un sport abbastanza impegnativo di conseguenza non essendoci mai stata la persona che è arrivata nelle massime categorie si tende a investire di più magari sull'uomo piuttosto che sulla donna e poi non essendoci un percorso apposito io ho parlato anche con alcune proprio pilote pilotesse che magari hanno avuto dei manager con cui non si sono trovati benissimo perché avevano magari lo stereotipo non so come spiegarmi quindi certo in effetti lo stereotipo c'è perché in realtà diciamo l'ambiente del motosport è prettamente massile lo sappiamo diciamo che è vero che ci stiamo un pochettino più infoltendo a livello di numeri però sicuramente la proporzione ancora non è 50 e 50 sicuramente quindi si fa un po' più fatica infatti volevo chiedere anche a te se c'erano stati dei momenti da quando appunto è nata l'idea è partito il progetto in cui ti sei sentita un po' come per dire caspita se ero un uomo sicuramente mi avrebbero ascoltato di più allora magari ascoltato no di trovare qualche persona che rimane impuntata sulla sua idea che le donne non possano mai arrivare quello magari già di più e poi essendo io anche molto giovane diciamo trovo più un muro da quel punto di vista dal punto di vista dell'età che dicono magari stai esatto sì sia dal punto di vista dell'età ma alcune volte anche sì anche dal punto di vista dell'essere donna che vuoi farla arrivare perché sei donna e quindi ti rivedi un po' però in realtà non è questo non è solo questo diciamo che un po' lo stereotipo è difficile da sdoganare però insomma ripeto sono radicate nella propria idea e questo lo trovo in tutti gli ambiti in tutte le posizioni diciamo all'interno del mondiale quindi in tutte le figure che ci sono questo è vero però diciamo che guarda secondo me il fatto che comunque ci possa essere Maria Herrera direttamente nella Moto3 che comunque è un mondo che lei conosce benissimo perché insomma ha già avuto modo di partecipare con una moto che comunque conosce già perché anche la KTM è una moto che lei ha già masticato sicuramente diciamo sarà proprio il messaggio che volete passare sì sì esatto poi noi comunque puntiamo a far bene quindi anche il fatto del test del far lavorare Maria è perché comunque vogliamo non solo partecipare ma partecipare e fare il meglio possibile quindi Maria Herrera è sicuramente una persona che avendo esperienza può lavorare bene questo sì ma se ti dovessi dire allora dato che appunto nelle puntate precedenti un pochettino abbiamo parlato anche un po' di italianità allora noi abbiamo tantissimi progetti bellissimi come appunto Angelus ne è l'esempio primario però a volte ci perdiamo sul fatto dell'operativo nel senso del pilota cioè ci sono poche poche piloti italiani forti da portare avanti al di là del fatto che comunque ci sono tantissime ragazze bravissime nella Women's European Cup quello senza dubbio però secondo te come mai manca materia prima italiana invece in Spagna per esempio ne hanno a Iosa diciamo che è proprio anche la preparazione delle categorie che ci sono in Italia perché ad esempio nel CIV rispetto anche al CEV che è il campionato poi europeo le moto sono molto diverse da quelle che poi sono quelle del mondiale di conseguenza poi fare il passaggio diventa più complicato ad esempio la moto 3 del CEV è quasi identica alla moto 3 del mondiale mentre quindi è sempre una 300 mentre nel nel CIV è una 450 quindi è comunque una moto molto diversa fare il passaggio non è così semplice tra l'altro infatti faticano anche molti molti piloti anche anche maschili spesso il passaggio che si fa è comunque quello di passare al CEV fare qualche anno lì e poi passare al mondiale quindi diciamo che il percorso la filiera ovviamente magari è un po' più tortuosa in Italia quindi magari ci sono un po' più ostacoli esatto invece dal punto di vista tecnico lo stesso diciamo il motivo è lo stesso perché per esempio in Spagna c'è una scuola la MOLAU che è una scuola proprio che prepara nella parte tecnica che in Italia non c'è una cosa del genere diciamo che un po' come quello che può accadere dal punto di vista un po' diciamo adesso facciamo un po' di un erbo a un fascio del motosport in realtà a volte ci sono dei paesi che sostengono proprio un po' a livello nazionale e quindi diciamo che aspetta un po' a livello nazionale il sostegno dalla parte della federazione possiamo dirlo sì diciamo in generale penso anche in parte come seguito perché è vero che si segue il motociclismo ma non così o almeno non è così sentito è vero è vero questo sì questo sì c'è Priscilla che ci chiedeva prima il nome della della grande pilota che ci sarà a settembre ad Aragon insieme appunto supportata da Angelus che è Maria Herrera la potete trovare in ogni dove Maria è fantastica simpaticissima sempre molto disponibile Alberto Barale dice la sua riguardo a quello che stiamo dicendo se posso intromettermi un attimo sull'ultima domanda devo dire che la categoria 300 super sport sta portando via dalla giusta strada molti piloti è vero è vero mi trovo abbastanza d'accordo perché come dicevo prima è sempre molto lontano dal campionato da poi quello che è il campionato mondiale eh sì quindi diciamo che infatti in effetti comunque è una caratteristica motoristica questa perché io mi collego a te faccio sempre il mio mai grado il paragone con le quattro ruote in realtà in Italia per esempio tutti seguono il calcio sanno bellissimo benissimo che c'è la serie C la serie B la serie A è tutto semplicissimo tutti conoscono invece ovviamente dal punto di vista di motori ci si perde un po' via e solo magari l'appassionato va a fondo per capire di più esatto esatto alcune volte devo spiegare guarda che la moto 3 è lo stesso giorno della moto GP non è come il calcio che si fa altri giorni si si è complicato perché è meno seguito eh si questo si diciamo che bisognerebbe lavorare un pochettino anche su questo sicuramente è qualcosa che avvicinerebbe molto molto di più volevo arrivare un pochettino a fare una domanda su di te allora mi hai detto appunto che sei stata ti sei accorta di questa passione nel momento in cui sei data a Misano che comunque è un circuito fantastico Misano si presta tantissimo alle moto è molto divertente quindi io voglio sapere un po' il rapporto di Aurora con la moto io non corro non ho mai corso infatti questa cosa me la chiedono spesso e rimangono spesi spesso no non corro non ho mai corso non ho pilotato al massimo lo scooter ma anche abbastanza male sono quasi andata contro un guardrail a Jerez quindi e lì è finita la mia carriera come motociclista sì non è strano ma non non guido quindi diciamo che non è neanche nei tuoi nei tuoi progetti quello di saltare dall'altra parte faccio correre gli altri io io gestisco da fuori poi altra domanda che poi mi ero mi ero segnata che sono molto molto curiosa infatti Aurora come vedi ti faccio un sacco di domandine simpatiche allora hai avuto modo di vedere toccare con mano di seguire c'è una donna tra le poche appunto che abbiamo detto comunque esserci un po' nell'ambito motoristico una donna a cui ti ispiri o comunque vogliamo aprire vogliamo aprire l'ambito c'è qualcuno nel motociclismo a cui dici ho una grande estima e mi ispiro a lui oddio è una domanda abbastanza complicata mi ispiro in realtà non credo ci sono ragazzi o comunque donne che seguo e che mi piacciono molto come persone e come lavoratrice a cui mi ispiro poi realmente non credo non mi viene in mente nessuno nessuno a cui rifarti insomma è dire ma è una persona che in alcuni lati comunque avrei fatto così anche a volte dal punto di vista di comportamento al momento non mi viene in mente nessuno si vede che la prossima volta ce lo dovrei dire Aurora ovviamente appena penso a qualcuno vi farò allora ultima ultima domanda poi ti lascio andare perché so che sei super presa e super super indaffarata appunto con la preparazione ci sono stati dei dei momenti dei punti di questo di questo progetto che vi sta portando poi a settembre in cui pensavi insomma che si fosse tutto bloccato che che c'erano degli ostacoli insormontabili diciamo da quando è partito realmente poi la società e il progetto no più perché come ho detto a settembre ho iniziato a cercare appunto un modo per entrare tra l'altro cercavo nei siti tutte le persone lavoravano nei team ho scritto a chiunque e molto spesso sono stata bloccata quindi più magari all'inizio quando perché spesso trovavo dei muri quindi lì ho più trovato un blocco diciamo poi da quando è partita la società non ho avuto tempo di è andato tutto abbastanza velocemente abbastanza bene quindi poi come detto essendo solo a distanza di sei mesi dopo avendo presentato la wildcard a solo a distanza di sei mesi mi ritengo abbastanza soddisfatta assolutamente assolutamente sì tu sei giovanissima e che consigli daresti a quelle che sono ragazze come te che invece magari tutto questo coraggio non ce l'hanno di buttarsi di provarci alla fine quello che penso è che il massimo che può succedere qual è? di ricevere un no alla fine è quello tanto se comunque rimani della tua posizione il massimo che può succedere è che va bene se va male comunque rimani nella posizione in cui sei quindi perdi niente esatto ecco ultima ultima domanda allora faccio sempre una domanda un po' marzuliana verso la fine del nostro salotto rosa allora magari anche scontata però come tutte le domande di marzuliano sono un po' scontate e allora quella che è la tua vittoria più grande fino ad ora la wildcard per il momento la wildcard ovviamente e invece quello che è il tuo sogno proprio sogna in grande Aurora pensa ormai allora abbiamo dato il via ad Angelus a collegamenti tecnici con team in Moto3 e in MotoGP wildcard pronta per settembre 18 mi raccomando GP di Aragon ma sogni ancora più in grande cosa sogni per te per Angelus e devo sognare proprio in grandissimo il fatto di avere un pilota donna che sia competitivo in MotoGP con un team al femminile che possa magari arrivare anche al podio o vincere o comunque essere tra i primi quello è proprio il sogno in grandissimo ovviamente già fare bene e riuscire ad avere più donne nel campionato già sarebbe una grande vittoria e noi allora Nel farti il grandissimo in bocca al lupo per quello che è il tuo progetto che ovviamente seguiremo e questo è solo un arrivederci un'ora perché vogliamo essere aggiornatissime su tutto quello che è che è il progetto della start-up ovviamente ti seguiamo sui social per vedere anche tutti tutti gli sviluppi ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi grazie grazie a te a voi per avermi per avermi invitata mi ha fatto molto piacere anche a noi di Wilson Is avere una donna così giovane così determinata così coraggiosa nel buttarsi nel sognare in grande e nel lavorare veramente veramente in modo tosto per raggiungere l'obiettivo per noi è un grande piacere aver chiacchierato un pochettino con te ti ringrazio ancora è stato un grande piacere anche per me grazie Aurora buona grazie a Luz per tutta la sua attività per tutti coloro che ci hanno seguito vi salutiamo grazie per essere stati con noi stasera mi raccomando mi raccomando settimana prossima martedì ore 21 ci sarà un nuovo ospite seguitemi sui social per capire un po' chi è grazie ancora Aurora buona serata ciao buona serata buona serata a tutti grazie a tutti